Epistola ai Romani Romani, capitolo primo Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Sacre Scritture, e che concerne il suo figliuolo nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figliuolo di Dio con potenza, secondo lo Spirito di Santità mediante la sua risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazie e apostolato per trarre all'ubbidienza della fede tutti i gentili per amore del suo nome, fra i quali gentili siete voi pure chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati ad essere santi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Prima di tutto io rendo grazie all'I Dio mio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata per tutto il mondo, poiché il Dio al quale servo nello spirito mio annunziando l'Evangelo del suo figliuolo, mi è testimone che io non resto dal far menzione di voi in tutte le mie preghiere, chiedendo che in qualche modo mi sia a porta finalmente per la volontà di Dio l'occasione propizia di venire a voi, poiché desidero vivamente di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati, o meglio, perché quando sarò tra voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune voi ed io. Or, fratelli, non voglio che ignorate che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito per averne qualche frutto anche fra voi come fra il resto dei gentili. Io sono debitore tanto ai greci quanto ai barbari, tanto ai savi quanto agli ignoranti, ond'è che per quanto sta a me io sono pronto ad annunziare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma, poiché io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, infatti quel che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, avendolo il Dio loro manifestato, poiché le perfezioni invisibili di Lui, la Sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere Sue. Ond'è che essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto il Dio, non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e all'insensato loro cuore si è ottenebrato. Dicendosi savi, sono divenuti stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile ad uccelli e di quadrupedi e di rettili. Per questo i Dio li ha abbandonati nella concupiscenza dei loro cuori alla impurità, perché vituperassero fra loro i loro corpi, essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore che è benedetto in eterno. Amen. Perciò, i Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura, e similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidia negli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. E siccome non si sono curati di ritenere la conoscenza di Dio, i Dio li ha abbandonati ad una mente reproba perché facessero le cose che sono sconvenienti, essendo essi ricolmi d'ogni ingiustizia, malvagità, cupidicia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità. Delatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, inventori di mali, disubbidienti ai genitori, insensati, senza fede nei patti, senza affezione naturale, spietati, i quali, pur conoscendo che secondo il giudizio di Dio, quelli che fanno queste cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Romani, capitolo secondo. Perciò, o uomo, chiunque tu sii che giudichi, sei inescusabile, poiché nel giudicare gli altri tu condanni te stesso, perché tu che giudichi fai le medesime cose. Or, noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. E pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso di scampare al giudizio di Dio? Ovvero, sprezi tu le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza, della sua lungaminità, non riconoscendo che la benignità di Dio ti trai a ravvedimento? Tu, invece, seguendo la tua durezza e il tuo cuore impenitente, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, il quale renderà a ciascuno, secondo le sue opere, vita eterna a quelli che con la perseveranza del bene operare cercano gloria e onore e immortalità, ma a quelli che sono contenziosi e non obbidiscono alla verità, ma obbediscono all'ingiustizia, ira e indignazione, tribolazione ed angoscia sopra ogni animo ad uomo che fa il male, del giudeo prima e poi del greco, ma gloria e onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima, poi al greco, poiché dinanzi a Dio non c'è riguardo a persone, infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo legge saranno giudicati con quella legge, poiché non quelli che ascoltano la legge sono giusti dinanzi a Dio, ma quelli che lo servano saranno giustificati. Infatti, quando i gentili che non hanno legge adempiono per natura le cose della legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi, essi mostrano che quel che la legge comanda è scritto nei loro cuori per la testimonianza che rende loro la coscienza e perché i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo secondo il mio Vangelo. Ora, se tu ti chiami giudeo e ti riposi sulla legge e ti glori in Dio e conosci la sua volontà e discerni la differenza delle cose essendo ammaestrato dalla legge e ti persuadi di essere guida dei ciechi luce di quelli che sono nelle tenebre educatore degli scempi maestro dei fanciulli perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso tu che predichi che non si deve rubare rubi tu che dici che non si deve commettere adulterio commetti adulterio tu che hai in abominio gli idoli saccheggi tempi tu che meni vanto della legge e disonori Dio trasgredendo la legge poiché siccome scritto il nome di Dio per cagion vostra è bestemmiato fra i gentili infatti ben giova la circoncisione se tu osservi la legge ma se tu sei trasgressore della legge la tua circoncisione diventa incirconcisione e se l'incirconciso osserva i precetti della legge la sua incirconcisione non sarà essa reputata circoncisione così colui che è per natura incirconciso se adempi la legge giudicherà te che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge poiché giudeo non è colui che è tale all'esterno né è circoncisione quella che è esterna nella carne ma giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del cuore in spirito non in lettera ed un tale giudeo la lode procede non dagli uomini ma da Dio Epistola ai Romani capitolo terzo qual è dunque il vantaggio del giudeo o qual è l'utilità della circoncisione grande per ogni maniera prima di tutto perché a loro furono affidati gli oracoli di Dio poiché che vuol dire se alcuni sono stati increduli annullerà la loro incredulità alla fedeltà di Dio così non sia anzi sia Dio riconosciuto verace ma ogni uomo bugiardo siccome scritto affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e resti vincitore quando sei giocato ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio che diremo noi il Dio è egli ingiusto quando dà corso alla sua ira io parlo manamente così non sia perché altrimenti come giudicherà egli il mondo ma se per la mia menzogna la verità di Dio è abbondata a sua gloria perché son io ancora giudicato come peccatore e perché secondo la calunnia che ci è lanciata e la massima che taluni ci attribuiscono perché non facciamo il male affinché ne venga il bene la condanna di quei tali è giusta che dunque abbia a noi qualche superiorità affatto perché abbiamo dinanzi provato che tutti giudei e greci sono sotto il peccato siccome scritto non v'è alcun giusto neppure uno non v'è alcuno che abbia intendimento non v'è alcuno che ricerchi Dio tutti si sono sviati tutti quanti sono divenuti inutili non v'è alcuno che pratichi la bontà no neppure uno la loro gola è un sepolcro aperto con le loro lingue hanno usato frode v'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra la loro bocca è piena di maledizione ed amarezza i loro piedi sono veloci a spargere il sangue sulle loro vie è rovina e calamità e non hanno conosciuto la via della pace non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice lo dice a quelli che sono sotto la legge affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto a giudizio di Dio poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato ora però indipendentemente dalla legge è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti poiché non v'è distinzione difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso per dimostrare la sua giustizia avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato al tempo della sua divina pazienza per dimostrare dico la sua giustizia nel tempo presente onde egli sia giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù dov'è dunque il vanto esso è escluso per qual legge delle opere no ma per la legge della fede poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge il dio è egli forse soltanto l'iddio dei giudei non è egli anche l'iddio dei gentili certo lo è anche dei gentili poiché v'è un dio solo il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimenti mediante la fede annulliamo noi dunque la legge mediante la fede così non sia anzi stabiliamo la legge epistola ai romani capitolo quarto che diremo dunque che l'antenato nostro abramo ebbe ottenuto secondo la carne poiché se abramo è stato giustificato per le opere egli avrebbe di che gloriarsi ma dinanzi a dio egli non ha di che gloriarsi infatti che dice la scrittura or abramo credete a dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia or a chi opera la mercede non è messa in conto di grazia ma di debito mentre a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio la sua fede gli è messa in conto di giustizia così pure davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale il dio imputa la giustizia senza opere dicendo beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti beato l'uomo al quale il signore non imputa il peccato questa beatitudine è ella soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi poiché noi diciamo che la fede fu ad abramo messa in conto di giustizia in che modo dunque gli fu messa in conto quando era circonciso o quando era incirconciso non quando era circonciso ma quando era incirconciso poi ricevete il segno della circoncisione qual suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso affinché fosse il padre di tutti quelli che credono essendo incirconcisi onde anche a loro si è messa in conto la giustizia e il padre dei circoncisi di quelli cioè che non solo sono circoncisi ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso poiché la promessa d'essere erede al mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua progenie in base alla legge ma in base alla giustizia che viene dalla fede perché se quelli che sono della legge sono eredi la fede resa vana e la promessa è annullata poiché la legge genera ira ma dove non c'è legge non c'è neppure trasgressione perciò l'eredità è per fede affinché sia per grazia onde la promessa sia sicura per tutta la progenie non soltanto per quella che è sotto la legge ma anche per quella che ha la fede d'Abramo il quale è padre di noi tutti secondo che è scritto io t'ho costituito padre di molte nazioni dinanzi al Dio a cui egli credette il quale fa rivivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero egli sperando contro speranza credette per diventare padre di molte nazioni secondo quel che gli era stato detto così sarà la tua progenie e senza venire meno nella fede egli vide bensì che il suo corpo era svigorito aveva quasi cent'anni e che Sar non era più in grado d'essere madre ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità ma fu fortificato per la sua fede dando gloria a Dio ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso egli era potente di effettuarlo onde è che ciò gli fu messo in conto di giustizia or non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia ma anche per noi ai quali sarà così messo in conto per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione epistola ai romani capitolo quinto giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a quella grazia nella quale stiamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio e non soltanto questo ma ci gloriamo anche delle afflizioni sapendo che l'afflizione produce pazienza la pazienza esperienza e la esperienza speranza or la speranza non rende confusi perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato perché mentre eravamo ancora senza forza Cristo a suo tempo è morto per gli empi poiché a malapena uno muore per un giusto ma forse per un uomo da bene qualcuno ardirebbe morire ma il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in quanto che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi tanto più dunque essendo ora giustificati per il suo sangue saremo per mezzo di Lui salvati dall'ira perché se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliuolo tanto più ora essendo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita e non soltanto questo ma anche ci gloriamo in Dio per mezzo del nostro Signor Gesù Cristo per il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione perciò siccome per mezzo di un sol uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato v'è entrata la morte e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato poiché fino alla legge il peccato era nel mondo ma il peccato non è imputato quando non v'è legge eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella d'Adamo il quale è il tipo di colui che doveva venire però la grazia non è come il fallo perché se per il fallo di quell'uomo i molti son morti molto più la grazia di Dio e il dono fattoci dalla grazia dell'unico uomo Gesù Cristo hanno abbondato verso i molti e riguardo al dono non avviene che quel che è avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato poiché il giudizio da un unico fallo ha fatto capo alla condanna mentre la grazia da molti falli ha fatto capo alla giustificazione perché se per il fallo di quell'uomo la morte ha regnato mediante quell'uomo tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uomo che è Gesù Cristo come dunque con un sol fallo la condanna si è stesa a tutti gli uomini così con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita si è stesa a tutti gli uomini poiché siccome per la disubbidienza di un sol uomo i molti sono stati costituiti peccatori così anche per l'ubbidienza di un solo i molti saranno costituiti giusti ora la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse ma dove il peccato è abbondato la grazia è sovrabbondata affinché come il peccato regnò nella morte così anche la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore Epistola ai Romani Capitolo Sesto Che direndunque rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi così non sia noi che siamo morti al peccato come vivremo ancora in esso o ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte noi siamo dunque stati con Lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte affinché come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre così anche noi camminassimo in novità di vita poiché se siamo divenuti una stessa cosa con Lui per una morte somigliante alla Sua lo saremo anche per una risurrezione simile alla Sua sapendo questo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato onde noi non serviamo più al peccato poiché colui che è morto è affrancato dal peccato ora se siamo morti con Cristo noi crediamo che altresì vivremo con Lui sapendo che Cristo essendo risuscitato dai morti non muore più la morte non lo signoreggia più poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta e per sempre ma il suo vivere è un vivere a Dio così anche voi fate conto d'essere morti al peccato ma viventi a Dio in Cristo Gesù non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirli nelle sue concupiscenze e non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio perché il peccato non vi signoreggerà poiché non siete sotto la legge ma sotto la grazia che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia così non sia non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirli siete servi di colui a cui ubbidite o del peccato che mena la morte o dell'ubbidienza che mena la giustizia ma si è ringraziato il Dio che eravate bensì servi del peccato ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso ed essendo stati affrancati dal peccato siete divenuti servi della giustizia io parlo alla maniera degli uomini per la debolezza della vostra carne poiché come già prestaste le vostre membra a servizio delle impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione poiché quando eravate servi del peccato eravate liberi riguardo alla giustizia qual frutto dunque avete allora delle cose delle quale oggi vi vergognate poiché la fine loro è la morte ma ora essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna poiché il salario del peccato è la morte ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore Epistola ai Romani Capitolo Settimo O ignorate voi fratelli poiché io parlo a persone che hanno conoscenza della legge che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che egli vive infatti la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive ma se il marito muore ella è sciolta dalla legge che la lega al marito ond'è che se mentre vive il marito ella passa a un altro uomo sarà chiamata adultera ma se il marito muore e l'è libera di fronte a quella legge in guisa che non è adultera se diviene moglie di un altro uomo così fratelli miei anche voi siete divenuti morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro cioè a colui che è risuscitato dai morti e questo affinché portiamo del frutto a Dio poiché mentre eravamo nella carne le passioni peccaminose ed estate dalla legge agivano nelle nostre membra per portare del frutto per la morte ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge essendo morti a quella che ci teneva soggetti tal che serviamo in novità di spirito e non in vecchiezza di lettera che diremo dunque la legge ed essa peccato così non sia anzi io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge poiché io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire ma il peccato colta l'occasione per mezzo del comandamento produsse in me ogni concupiscenza perché senza la legge il peccato è morto e ci fu un tempo nel quale senza legge vivevo ma avvenuto il comandamento il peccato prese vita ed io morì e il comandamento che era inteso a darmi vita risultò che mi dava morte perché il peccato colta l'occasione per mezzo del comandamento mi trasse in inganno e per mezzo d'esso moccise tal che la legge è santa e il comandamento è santo e giusto e buono ciò che è buono diventò dunque morte per me così non sia ma è il peccato che mi è divenuto morte onde si palesasse come peccato cagionandomi la morte mediante ciò che è buono affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante noi sappiamo infatti che la legge è spirituale ma io sono carnale venduto schiavo al peccato perché io non approvo quello che faccio poiché non faccio quello che voglio ma faccio quello che odio ora se faccio quello che non voglio io ammetto che la legge è buona e allora non sono più io che lo faccio ma è il peccato che abita in me difatti io so che in me vale a dire nella mia carne non abita alcun bene poiché ben trovasi in me il volere ma il modo di compiere il bene no perché il bene che io voglio non lo fo ma il male che non voglio quello fo ora se ciò che non voglio è quello che io fo non sono più io che lo compio ma è il peccato che abita in me io mi trovo dunque sotto questa legge che volendo io fare il bene il male si trova in me poiché io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interno ma vego un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mia membra misero me uomo chi mi trarrà da questo corpo di morte grazie siano resi a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore così dunque io stesso con la mente servo alla legge di Dio ma con la carne alla legge del peccato Epistola ai Romani capitolo ottavo non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte poiché quel che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva debole e Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo spirito poiché quelli che sono secondo la carne hanno l'animo alle cose della carne ma quelli che sono secondo lo spirito hanno l'animo alle cose dello spirito perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte ma ciò a cui lo spirito ha l'animo è vita e pace poiché ciò a cui la carne ha l'animo è inemicizia contro Dio perché non è sottomesso la legge di Dio e neppure può esserlo e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio or voi non siete nella carne ma nello spirito seppur lo spirito di Dio abita in voi ma se uno non ha lo spirito di Cristo egli non è di Lui e se Cristo è in voi ben è il corpo morto a cagione del peccato ma lo spirito è vita a cagione della giustizia e se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivicherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi così dunque fratelli noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne perché se vivete secondo la carne voi morrete ma se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo voi vivrete poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figliuoli di Dio poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba Padre lo spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figliuoli di Dio e se siamo figliuoli siamo anche eredi eredi di Dio e coeredi di Cristo seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo poiché la creazione con brama intensa aspetta la manifestazione del figliuolo di Dio perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà ma a cagione di colui che ve l'ha sottoposta non senza speranza però che la creazione stessa sarà anche la liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figliuoli di Dio poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio non solo essa ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito anche noi stessi gemmiamo in noi medesimi aspettando l'adozione la redenzione del nostro corpo poiché noi siamo stati salvati in speranza or la speranza di quel che si vede non è speranza difatti quello che uno vede perché lo spererebbe egli ancora ma se speriamo quel che non vediamo noi l'aspettiamo con pazienza parimente ancora lo spirito sovviene alla nostra debolezza perché noi non sappiamo pregare come si conviene ma lo spirito intercede egli stesso per noi con sospiri inefabili e colui che investiga i cuori conosce qualsia il sentimento dello spirito perché esso intercede per i santi secondo di Dio or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio i quali sono chiamati secondo il suo proponimento perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo onde egli sia il primogenito fra molti fratelli e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati che diremo dunque a queste cose se Dio è per noi chi sarà contro di noi colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo ma l'ha dato per tutti noi come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui chi accuserà gli eletti di Dio e Dio è quel che li giustifica chi sarà quel che li condanni Cristo Gesù è quello che è morto e più che questo è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi chi ci separerà dall'amore di Cristo sarà forse la retribuzione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada come scritto per l'amore di Te noi siamo tutto il giorno messi a morte siamo stati considerati come pecore da macello anzi in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in vertù di colui che ci ha amati poiché io sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né cose presenti né cose future né podestà né altezza né profondità né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore Epistola ai Romani capitolo nono io dico la verità in Cristo non mento la mia coscienza me lo attesta per lo Spirito Santo io ho una grande tristezza e un continuo dolore nel cuor mio perché vorrei essere io stesso anatema separato da Cristo per l'amore dei miei fratelli miei parenti secondo la carne che sono israeliti ai quali appartengono l'adozione la gloria i patti e la legislazione il culto e le promesse dei quali sono i padri e dei quali è venuto secondo la carne e il Cristo che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno Amen però non è che la parola di Dio sia caduta a terra perché non tutti i discendenti da Israele sono Israele né per il fatto che sono progeni d'Erbramo sono tutti figliuoli d'Abramo anzi in Isacco ti sarà nominata una progenie cioè non i figliuoli della carne sono figliuoli di Dio ma i figliuoli della promessa sono considerati come progenie poiché questa è una parola di promessa in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliuolo non solo ma anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito da uno stesso uomo vale a dire da Isacco nostro padre due gemelli poiché prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama le fu detto il maggiore servirà al minore secondo che è scritto ho amato Giacobbe ma ho odiato Esau che diremo dunque v'è forse ingiustizia in Dio così non sia poiché egli dice a Mosè io avrò mercè di chi avrò mercè e avrò compassione di chi avrò compassione non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia poiché la scrittura dice a Faraone appunto per questo io t'ho suscitato per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole tu allora mi dirai perché si lagna egli ancora poiché chi può resistere alla sua volontà piuttosto o uomo chi sei tu che replichi a Dio la cosa formata dirà essa a colui che la formò perché mi facesti così il vasaio non ha egli potestà sull'argilla da trarre dalla stessa massa un vaso per l'uso nobile e un altro per uso ignobile e che v'è mai da replicare se Dio volendo mostrare la sua ira fa conoscere la sua potenza ha sopportato con molte longaminità dei vasi d'ira preparati per la perdizione e se per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia chi aveva già innanzi preparati per la gloria li ha anche chiamati parlo di noi non soltanto di fra i giudei ma anche di fra i gentili così egli dice anche in Osea io chiamerò mio popolo quello che non è ora mio popolo e amata quella che non era amata e avverrà che nel luogo ovvero a loro stato detto voi non siete mio popolo qui vi saranno chiamati figliuoli dell'idio vivente e Isaia esclama riguardo a Israele quando anche il numero dei figliuoli di Israele fosse come l'arena del mare il rimanente solo sarà salvato poiché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo definitivo e reciso e come Isaia aveva già detto prima se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un seme saremmo divenuti come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra che direndunque diremo che i gentili i quali non cercavano la giustizia hanno conseguito la giustizia ma la giustizia che viene dalla fede mentre Israele che cercava la legge della giustizia non ha conseguito la legge della giustizia e perché? perché l'ha cercata non per fede ma per opere essi hanno urtato nella pietra d'intoppo siccome è scritto ecco io pongo in Sion una pietra d'intoppo e una roccia d'inciampo ma chi crede in Lui non sarà svergognato Epistola ai Romani capitolo decimo fratelli il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio ma zelo senza conoscenza perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria non si sono sottoposti alla giustizia di Dio poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse ma la giustizia che viene dalla fede dice così non dire in cuor tuo chi salirà in cielo questo è un farne discendere Cristo né chi scenderà nell'abisso questo è un far risalire Cristo di inframorti ma che dice ella la parola è presso di te nella tua bocca e nel tuo cuore questa è la parola della fede che noi predichiamo poiché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti sarai salvato infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per esser salvati difatti la scrittura dice chiunque crede in lui non sarà svergognato poiché non vè distinzione fra giudeo e greco perché lo stesso Signore è Signore di tutti ricco verso tutti quelli che lo invocano poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare e come udranno se non vecchi predichi e come predicheranno se non sono mandati siccome siccome è scritto quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle ma tutti non hanno ubbidito alla buona novella perché Isaia dice Signore chi ha creduto alla nostra predicazione così la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Dio ma io dico non hanno essi udito anzi la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confindi nel mondo ma io dico Israele non ha egli compreso Mosè per primo dice io vi muoverò a gelosia di una nazione che non è nazione contro una nazione senza intelletto provocherò il vostro sdegno e Isaia si fa ardito e dice sono stato trovato da quelli che non mi cercavano sono stato chiaramente conosciuto da quelli che non chiedevano di me ma riguardo a Israele dice tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente epistola ai romani capitolo undicesimo io dico dunque e Dio ha egli reietto il suo popolo così non sia perché anch'io sono israelita della progeni di Abramo della tribù di Beniamino e Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto non sapete voi che la scrittura dice della storia di Elia come egli ricorre a Dio contro Israele dicendo signore hanno ucciso i tuoi profeti hanno demolito i tuoi altari e io sono rimasto solo e cercano la mia vita ma che gli rispose la voce divina mi son riservato settemila uomini che non han piegato il ginocchio davanti a Baal e così anche nel tempo presente v'è un residuo secondo l'elezione della grazia ma se è per grazia non è più per opere altrimenti grazia non è più grazia che dunque quel che Israele cerca non l'ha ottenuto mentre il residuo eletto l'ha ottenuto e gli altri sono stati indurati secondo che è scritto il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire fino a questo giorno e Davide dice la loro mensa sia per loro un laccio una rete un inciampo è una retribuzione siano gli occhi loro oscurati in guisa che non vegano e piega loro del continuo la schiena io dico dunque hanno essi così inciampato da cadere così non sia ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocar loro a gelosia or se la caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione è la ricchezza dei gentili quanto più lo sarà la loro pienezza ma io parlo a voi o gentili in quanto io sono l'apostolo dei gentili e glorifico il mio ministero per vedere di provocare a gelosia quelli del mio sangue e di salvarne alcuni poiché se la loro reiezione è la riconciliazione del mondo che sarà la loro riammissione se non una vita di infrai morti e se la primizia è santa anche la massa è santa e se la radice è santa anche i rami sono santi e seppure alcuni dei rami sono stati troncati e tu che sei olivastro sei stato innestato in luogo loro e se sei diventato partecipe alla radice della grassezza dell'olivo non ti insuperbire contro ai rami ma se ti insuperbisci sappi che non sei tu che porti la radice ma la radice che porta te allora tu dirai sono stati troncati dei rami perché io fossi innestato bene sono stati troncati per la loro incredulità e tu sussisti per la fede non ti insuperbire ma temi perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali non risparmierà neppure te vedi dunque la benignità e la severità di Dio la severità verso quelli che sono caduti ma verso te la benignità di Dio seppur tu perseveri nella sua benignità altrimenti anche tu sarai reciso e anche quelli se non perseveranno nella loro incredulità saranno innestati perché Dio è potente da innestarli di nuovo poiché se tu sei stato tagliato dall'olivo per sua natura selvatico e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico quanto più essi che sono dei rami naturali saranno innestati nel loro proprio olivo perché fratelli non voglio che ignorate questo mistero affinché non siate presuntuosi che cioè un indurimento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pazienza dei gentili e così tutto Israele sarà salvato secondo che è scritto il liberatore verrà da Sion egli allontanerà da Gerusalemme le impietà e questo sarà il mio patto con loro quando io torrò via i loro peccati per quanto concerne l'Evangelo essi sono nemici per via di voi ma per quanto concerne l'elezione sono amati per via dei loro padri perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento poiché siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio ma ora avete ottenuto misericordia per mezzo della loro disubbidienza così anch'essi sono stati ora disubbidienti onde per la misericordia voi usata ottengano essi pure misericordia poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti o profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore o a chi è stato il suo consigliere o chi è gli ha dato per il primo e gli è stato contraccambiato poiché da Lui per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose a Lui sia la gloria in eterno Amen Epistola ai Romani Capitolo dodicesimo Io vi esorto dunque fratelli per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente santo accettevole a Dio il che è il vostro culto spirituale e non vi conformiate a questo secolo ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio la buona accettevole e perfetta volontà per la grazia che mi è stata data io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di sé un concetto più alto di quel che deve avere ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno poiché siccome in un sol corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno un medesimo ufficio così noi che siamo molti siamo un sol corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro e siccome abbiamo dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data se abbiamo dono di profezia profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede se di ministerio attendiamo al ministerio se di insegnamento all'insegnare se di esortazione all'esortare chi dà dia con semplicità chi presiede lo faccia con diligenza chi fa opere pietose le faccia con allegrezza l'amore sia senza ipocresia aborrite il male e attenetevi fermamente al bene quanto all'amor fraterno siete pieni da affezione gli un per gli altri quanto all'onore prevenitevi gli un gli altri quanto allo zelo non siate pigri siate ferventi nello spirito servite il Signore siate allegri nella speranza paziente nell'afflizione perseveranti nella preghiera provvedete alle necessità dei santi esercitate con premura l'ospitalità benedite quelli che vi perseguitano benedite e non maledite rallegratevi con quelli che sono allegri piangete con quelli che piangono abbiate fra voi un medesimo sentimento non abbiate l'animo alle cose alte ma lasciatevi attirare dalle umili non vi stimate savi da voi stessi non rendete ad alcuno male per male applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini se è possibile per quanto dipende da voi vivete in pace con tutti gli uomini non fate le vostre vendette cari miei ma cedete il posto all'ira di Dio perché sta scritto a me la vendetta io darò la retribuzione dice il Signore anzi se il tuo amico ha fame dagli da mangiare se ha sete dagli da bere poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo non esser vinto dal male ma vinci il male col bene Epistola ai Romani capitolo tredicesimo ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori perché non vè autorità se non da Dio e le autorità che esistono sono ordinate da Dio tal che chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio e quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una pena poiché i magistrati non sono di spavento alle opere buone ma alle cattive vuoi tu non aver paura dell'autorità fai quel che è bene e avrai lode da essa perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene ma se fai quel che è male temi perché egli non porta la spada in vano poiché egli è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male perciò è necessario star soggetti non soltanto a motivo della punizione ma anche per motivo di coscienza poiché è anche per questa ragione che voi pagate i tributi perché si tratta di ministri di Dio i quali attendono del continuo a questo ufficio rendete a tutti quel che è dovuto loro il tributo a chi dovete il tributo la gabella a chi la gabella il timore a chi il timore l'onore a chi l'onore non abbiate altro debito con alcuno se non damarvi gli un gli altri perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge infatti il non commettere adulterio non uccidere non rubare non concupire o qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola ama il tuo prossimo come te stesso l'amore l'amore non fa male alcuno al prossimo l'amore quindi è l'adempimento della legge e questo tanto più dovete fare conoscendo il tempo nel quale siamo poiché è ora ormai che vi svegliate dal sonno perché la salvezza c'è adesso più vicina di quanto credemmo la notte è avanzata il giorno è vicino gettiam dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce camminiamo onestamente come di giorno non in gozzoviglie ed ebrezze non in lussuria in lascivie non in contese ed invidie ma rivestitivi del Signor Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze Epistola ai Romani capitolo quattordicesimo quanto a colui che è debole nella fede accoglietelo ma non per discutere opinioni l'uno crede di poter mangiare di tutto mentre l'altro che è debole mangia legumi colui che mangia di tutto non sprezi colui che non mangia di tutto e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto poiché Dio l'ha accolto chi sei tu che giudichi il domestico altrui se sta in piedi o se cade è cosa che riguarda il suo padrone ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi l'uno stima un giorno più di un altro l'altro stima tutti i giorni uguali si è ciascun pienamente convinto nella propria mente chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore e chi mangia di tutto lo fa per il Signore poiché rende grazie a Dio e chi non mangia di tutto fa così per il Signore e rende grazie a Dio poiché nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso poiché se viviamo viviamo per il Signore e se moriamo moriamo per il Signore sia dunque che viviamo o che moriamo noi siamo del Signore poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita per essere il Signore dei morti e dei viventi ma tu perché giudichi il tuo fratello e anche tu perché disprezzi il tuo fratello poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio infatti sta scritto come io vivo dice il Signore ogni ginocchio si piegherà davanti a me ed ogni lingua darà gloria a Dio così dunque ciascun di noi renderà conto di se stesso a Dio non ci giudichiamo dunque più gli un gli altri ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra di inciampo sulla via del fratello né essergli occasione di caduta io so e son persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è impura in se stessa però se uno stima che una cosa è impura per lui è impura ora se a motivo di un cibo il tuo fratello è contristato tu non procedi più secondo carità non perdere col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto il privilegio che avete non sia dunque oggetto di biasimo perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda ma in giustizia pace ed allegrezza nello Spirito Santo poiché chi serve in questo a Cristo è gradito a Dio approvato dagli uomini cerchiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla mutua edificazione non disfare per un cibo l'opera di Dio certo tutte le cose sono pure ma è male quando l'uomo mangia dando intoppo è bene non mangiare carne né bere vino né far cosa alcuna che possa essere d'intoppo al fratello tu la convinzione che hai serbala per te stesso dinanzi a Dio beato colui che non condanna se stesso in quello che approva ma colui che sta in dubbio se mangia è condannato perché non mangia con convinzione e tutto quello che non viene da convinzione è peccato Romani capitolo quindicesimo or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi ciascuno di noi compiace al prossimo nel bene a scopo di edificazione poiché anche Cristo non compiacque a se stesso ma come scritto gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me perché tutto quel che fu scritto per ladietro fu scritto per nostro ammaestramento affinché mediante la pazienza e mediante la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza ora lì Dio della pazienza e della consolazione vi dia ad aver fra voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù affinché d'un solo animo e d'una stessa bocca glorificate Dio il Padre del nostro Signor Gesù Cristo perciò accoglietivi gli un gli altri siccome anche Cristo ha accolto noi per la gloria di Dio poiché io dico per Cristo è stato fatto ministero dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri mentre i gentili hanno da glorificare Dio per la sua misericordia secondo che è scritto per questo ti celebrerò fra i gentili e salmeggerò al tuo nome ed è detto ancora rallegrativi o gentili col suo popolo ed altrove gentili lo date tutti il Signore e tutti i popoli lo celebrano e di nuovo Isaia dice vi sarà la radice di esse e colui che sorgerà a governare i gentili in lui spereranno i gentili or lì Dio della speranza vi riempie d'ogni allegrezza e d'ogni pace col vostro credere onde abbondiate nella speranza mediante la potenza dello Spirito Santo or fratelli miei sono io pure persuaso a riguardo vostro che anche voi siete pieni di bontà ricolmi d'ogni conoscenza capaci anche da munirvi a vicenda ma vi ho scritto alquanto arditamente come per ricordarvi quel che già sapete a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio d'essere ministro di Cristo Gesù fra i gentili esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio affinché l'offerta dei gentili sia accettevole essendo santificata dallo Spirito Santo io ho dunque di che gloriarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio perché io non ardirei dir cosa che Cristo non abbia operata per mio mezzo in vista dell'ubbidienza dei gentili in parola e in opera con potenza di segni e di miracoli con potenza dello Spirito Santo così da Gerusalemme e dai luoghi intorno fino all'Illiria ho predicato dovunque l'Evangelo di Cristo avendo l'ambizione di predicare l'Evangelo laddove Cristo non fosse già stato nominato per non edificare sul fondamento altrui come scritto coloro ai quali nulla era stato annunziato di Lui lo vedranno e coloro che non ne avevano udito parlare intenderanno per questa ragione appunto sono stato da tante volte impedito di venire a voi ma ora non avendo più campo da lavorare in queste contrade e avendo già da molti anni gran desiderio di recarmi da voi quando andrò in Spagna spero passando di vedervi ed essere da voi aiutati nel mio viaggio a quella volta dopo che mi sarò in parte saziato di voi ma per ora vado a Gerusalemme a portarvi una sovvenzione per i santi perché la Macedonia e la Caia si sono compiaciute di raccogliere una contribuzione a pro dei poveri fra i santi che sono in Gerusalemme si sono compiaciute dico ed è anche un debito che esse hanno verso di loro perché se i gentili sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali sono anche in obbligo di sovvenire loro con i beni materiali quando dunque avrò compiuto questo servizio e avrò consegnato questo frutto andrò in Spagna passando da voi e so che recandomi da voi verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo ora fratelli io vi esorto per il Signor nostro Gesù Cristo e per la carità dello Spirito a combatter me con le vostre preghiere a Dio per me affinché io sia liberato dai disubbidienti di Giudea e la sovvenzione che porto a Gerusalemme sia accettevole ai santi in modo che se piace a Dio io possa recarmi da voi con allegrezza e possa con voi ricrearmi or lì Dio della pace sia con tutti voi Epistola ai Romani Capitolo sedicesimo Vi raccomando Febbe nostra sorella che è diaconessa della chiesa di Cencrea perché la riceviate nel Signore in modo degno dei Santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa e la possa aver bisogno di voi poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me stesso salutate Prisca ed Aquila miei compagni d'opera in Cristo Gesù i quali per la vita mia hanno esposto il loro proprio collo ai quali non io solo ma anche tutte le chiese dei gentili rendono grazie salutate anche la chiesa che è in casa loro salutate il mio caro Epeneto che è la primizia dell'Asia per Cristo salutate Maria che si è molto affaticata per voi salutate Andronico e Giugno miei parenti e compagni di prigione i quali sono segnalati fra gli apostoli e anche sono stati in Cristo prima di me salutate Ampliato il mio diletto nel Signore salutate Urbano nostro compagno d'opera in Cristo e il mio caro Stachi salutate Appelle che ha fatto le sue prove in Cristo salutate quei di casa di Aristobulo salutate Erudione mio parente salutate quei di casa di Narcisso che sono nel Signore salutate Trifena e Trifosa che si affaticano nel Signore salutate la cara Perside che si è molto affaticata nel Signore salutate Rufo l'eletto nel Signore e sua madre che è pure mia salutate Ansincrito Flegonte Erme Patroba Erma e tutti i fratelli che sono con loro salutate Filologo e Giulia Nereo e sua sorella e Olimpia e tutti i santi che sono con loro salutatevi gli altri con un santo bacio tutte le chiese di Cristo vi salutano or io vi esorto fratelli tenete d'occhio quei che fomentano delle dissensioni e degli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritraetevi da loro poiché quei tali non servano al nostro Signore Gesù Cristo ma al proprio ventre e con dolce lusinghiero parlare seducano il cuore dei semplici quanto a voi la vostra ubbidienza è giunta a conoscenza di tutti io dunque mi rallegro per voi ma desidero che siate savi nel bene e semplici per quel che concerne il male e lì Dio della pace triterà tosto Satana sotto i vostri piedi la grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi Timoteo mio compagno d'opera vi saluta e vi salutano pure Lucio Giasone Sossipatro miei parenti io Terseo che ho scritto l'epistola vi saluto nel Signore Gaio che ospita me e tutta la Chiesa vi saluta Erasto il tesoriere della città e il fratello quarto vi salutano la grazia del nostro Signor Gesù Cristo sia con tutti voi Amen ora a colui che vi può fortificare secondo il mio Vangelo e la predicazione di Gesù Cristo conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto occulto fin dai tempi più remoti ma è ora manifestato e mediante le scritture profetiche secondo l'ordine dell'Eterno e Dio è fatto conoscere a tutte le nazioni per addurre all'ubbidienza della fede a Dio solo Savio per mezzo di Gesù Cristo sia la gloria nei secoli e dei secoli Amen